Siamo in collegamento con Stefano Delrico, segretario nazionale di Unicobas. Parliamo con lui della sua ultima fatica libraria. Delrico ha pubblicato in queste settimane un testo che si intitola La scuola rapita, il covid e la dad, il disastro educativo italiano. È di fatto la prosecuzione, la riedizione di un volume che lui aveva fatto già due anni fa che era intitolato La scuola distrutta, 30 anni di svalutazione sistematica del nostro sistema di istruzione. Tu nei titoli e soprattutto nei sottotitoli non sei per niente tenero. Parli di scuola rapita, di disastro educativo e parli di scuola distrutta. 30-40 anni forse più di distruzione della scuola. Perché tu parli di distruzione della scuola? Perché chiunque direbbe lo stesso basandosi sui dati di fatto? Dalle lettere anonime per valutare gli insegnanti del ministro Lombardi con lo studente cliente, a Berlinguer secondo il quale si potevano pareggiare lacune in matematica con crediti in educazione motoria, una Germini che ha fatto ridere il mondo inventandosi il famoso tunnel dei neutrini, una fedeli ministro diplomato con un titolo triennale, al fatto che noi investiamo pochissimo, investono meno di noi solo Slovacchia, Romania e Bulgaria per l'istruzione, che abbiamo l'80% di istituti fuori norma sulla sicurezza nonostante due anni di pandemia, ancora non abbiamo un piano per rimetterli a norma e occorrerebbero solo per quelli 13 miliardi, dal fatto che abbiamo un terzo degli insegnanti di sostegno almeno che non è specializzato sulle carte le più delicate e quelle per i diversamente abili, dal fatto che per affrontare la pandemia noi abbiamo fatto peggio di chiunque altro, validando di nuovo le classi Pollaio, nonostante quella fosse la Zolina, la ministra che aveva fatto una legge contro le classi Pollaio e mentre per esempio il Belgio aveva disposto massimo 10 alunni per classe, 4 metri ad alunno, non un metro di distanza fra le rime buccali, 15 alunni massimo per il Regno Unito, la Germania e 2 metri di distanza anche per tutti questi e anche per la Spagna o la metà degli alunni per volta come disposto in Olanda. Leggendo il tuo volume io ho capito che a tuo parere i tre disastri maggiori degli ultimi 20-25 anni hanno a che fare anche proprio con tre riforme importanti che ci sono state proprio dalla metà degli anni 90 ad oggi. Allora incominciamo con la riforma Berlinguer che introduce l'autonomia delle istituzioni scolastiche, passiamo attraverso la riforma Moratti sui programmi che diventano indicazioni nazionali, riforma convalidata anche dalla ministra Gelmini per arrivare a quello che tu consideri sotto questo aspetto il disastro principale che è quello del 2015 con la legge della buona scuola. Sono questi effettivamente i tre disastri più importanti? Sì, molto sinteticamente li hai riassunti tu, un'autonomia che è stata aziendalizzare, il significato aziendalizzare la scuola a creare la figura del dirigente che prima non esisteva, i programmi per esempio nella scuola elementare completamente distrutti visto che si arriva solo nella storia per esempio alla fine dell'impero romano per rimanere tre anni sull'età delle caverne, l'eliminazione del curicolo ciclico e poi ancora più potere dato a questi dirigenti con questo organico cosiddetto dell'autonomia, però parliamo della buona scuola di Renzi che è una sorta di rimbo dove si va per fare supplenze, dove vengono demanzionati, possono essere utilizzati insegnanti per esempio su chimica anche se non hanno mai fatto un esame di chimica, se questa è una buona scuola con i dirigenti che scelgono chi deve diventare titolare, chi deve rimanere titolare anche se ha trent'anni e chi no a seconda di chi mettono nell'organico dell'autonomia, in sostanza noi abbiamo avuto la riforma Bellinguer, la Moratti, la Germini, la buona scuola di Renzi, ma che cosa è successo nel frattempo? Allora fermiamoci ai dati di fatto, tra il 2014 e il 2017 i laureati fra i 30 e i 34 anni passano dal 23,9% al 26,9% tenendo conto delle lauree brevi che hanno distrutto l'università, ma nello stesso periodo la media UE sale a 37,9% dal 37,9% al 39,9% sfiorando la media UE il 40% fissato per il 2020, noi siamo all'ultimo posto, per quanto riguarda i 30 e 34 anni laureati noi abbiamo prestazioni allucinanti, ma basta pensare che all'ultimo posto in Europa si colloca la Sicilia con il 19,1% di cittadini 30 e 34 anni laureati, un dato appena superiore a quello dell'ultima regione in classifica nella UE che è il sud montenia della Romania, gli abbandoni precoci nei percorsi di istruzione, nel 2017 riguardavano il 14% dei giovani fra i 18 e i 24 anni contro il 10,6% della media UE, ma a dimostrazione della perdita di valore sociale dell'istruzione noi abbiamo il nord-est che è quello che si colloca appena poco sopra la media UE, con il 10,3% contro il 10,6%, cioè persino le zone più sviluppate stanno all'ultimo posto in Europa o quasi all'ultimo posto. Nel 2017 il 17,7% della popolazione italiana non aveva ancora neppure la licenza elementare e così anche l'1,4% dei 15-19 anni, quindi non si controlla neanche che si segua l'obbligo in questo paese. Abbiamo un 3,3% di imprenditori e liberi professionisti che si definiscono tali senza aver acquisito neanche la licenza media della scuola secondaria di primo grado e dall'anno scolastico 13-14 al 17-18 i tassi di scolarizzazione sono progressivamente scesi in tutti gli ordini e gradi di scuola e intanto erano intervenute quattro riforme. Allora se le riforme servono a questo vuol dire che non funzionano. Ecco e invece quali sono le riforme che a tuo parere servirebbero e delle quali peraltro tu parli proprio in un capitolo del libro dedicato proprio a questo tema. Le vogliamo sintetizzare, le vogliamo riassumere? Molto velocemente. Ingresso nell'obbligo dell'ultimo anno di scuola di infanzia perché la scuola di infanzia è fondamentale e invece non è diffusa nel paese mentre le scuole di infanzia più diffuse sono private o degli enti locali, negli enti locali non si entra con la laurea come nelle scuole di infanzia statale. Il latino nelle scuole medie, l'aumento delle ore di lettere cancellate dalla Germini sempre nelle scuole medie, il tempo prolungato nelle scuole medie, una classe di concorso per il sostegno perché non può essere il limbo dei non specializzati dove si sbattono gli insegnanti pur si voglia solo perché non si sa dove metterli, il preside elettivo e l'obbligo fino a 19 anni perché siamo anche il paese con l'obbligo più basso dell'Unione Europea in compagnia dell'Irlanda che non è certo un paese fortemente sviluppato e dare più forza e più ore alle materie che sviluppano i saperi critici, l'alternanza non deve essere meno addestramento professionale, deve essere la scuola a gestire, a dire quante ore debbano essere fatte, le ore vanno ridotte, vanno fortemente controllate perché non sia l'alternanza il regalo di forza lavoro gratuita al mondo dell'impresa. Senti, il libro si intitola La scuola rapita, il Covid e la DAD. Il Covid purtroppo non è ancora stato sconfitto e da quanto possiamo intuire in questo momento è anche possibile che a settembre la DAD continui ad essere una modalità importante per fare scuola. Nell'immediato per settembre che cosa c'è dietro l'angolo? Ma non c'è nulla perché non ci sono più impegni seri per assumere e ridurre il numero di alunni per classe e questa è la cosa che dovrebbe preoccupare di più gli insegnanti. A fronte di 230 miliardi di recovery fund si facciano classi con al massimo 15 alunni in modo che si possa andare a scuola in presenza ma in sicurezza, non in modo da avere una quarta ondata che è già ripartita e poi non basta certo dire la scuola sarà in presenza e poi non potrà esserlo perché i trasporti sono inadeguati, perché nessuno ha pensato di usare i trasporti dell'esercito, delle varie polizie italiane, degli enti locali, delle regioni, delle province, perché nessuno ha pensato a trovare ancora altri locali per la scuola e nessuno ha fatto un piano. Non c'è ancora il piano per la scuola, l'anno scorso è stato fatto a giugno, quest'anno lo avremo ad agosto, ma che piano potrà essere? E poi la DAD, tutti quanti dicono non la vogliamo ma nessuno dice perché, bisogna dire perché, perché il tablet, il computer non sono gli strumenti principali per leggere e studiare, perché come dice Marco Gui, un sociologo importante che ha studiato queste cose, lo snorkeling non equivale all'immersione profonda nel mare. Senti, fra i disastri di questi ultimi trent'anni tu citi anche il famoso decreto legislativo 29 del 1993. Non è un disastro educativo, quello ha a che fare con la materia contrattuale, è una storica battaglia dell'unicobas, ma è una battaglia importante perché tornerà di nuovo a galla presumibilmente nei prossimi mesi quando si tornerà a parlare di contratto del personale della scuola. Perché tutti i mali della situazione contrattuale degli insegnanti e del personale della scuola arrivano da lontano e cioè dal decreto 29? Perché il decreto 29 è, come dire, la battaglia contro il decreto 29 non l'ha fatta nessuno, la stiamo facendo in solitaria da trent'anni pur essendo invece la madre di tutte le battaglie da farsi per la scuola. Il primo dato è che non può esistere la concezione di docenti come impiegati, sono due funzioni completamente differenti, invece siamo stati infilati noi come scuola ma non l'università paradossalmente dove si esercita la nostra stessa funzione nel calderone indistinto del pubblico impiego con delle regole che impediscono qualunque tipo di crescita e di autonomia della scuola. Per esempio non possiamo avere aumenti superiori all'infrazione programmata, ma l'infrazione non si programma, non lo può fare neanche il mago di Arcella per l'anno successivo nella legge finanziaria dal nostro datore di lavoro, il ministro dell'economia. Quindi questo contratto ampiamente scaduto darà esiti disastrosi ancora una volta semplicemente perché i fondi stanziati per legge non possono superare l'infrazione programmata, mentre noi siamo all'ultimo posto in Europa nel ventaglio stipendiale. All'ultimo vuol dire che siamo retribuiti peggiori persino dei portoghesi e dei greci perché il nostro potere d'acquisto è il più basso di chiunque altro. Prendiamo uno stipendio che è meno della metà di quello dei docenti coreani ed è proprio a causa del DL 29 del 93 che ci ha fatto scendere in questo modo vertiginoso, che ha eliminato persino il ruolo che era uno scudo a garanzia dell'autonomia professionale dei docenti e che ha eliminato gli scatti d'anzianità biennali trasformandoli in gradoni di 6 e 7 anni che sono puramente nominali perché i soldi per pagare i gradoni non ci sono e quindi li tolgono dai fondi per il fondo di istituto, tutto ciò vuol dire che se ci pagano il gradone riducono quello che ci spetta per attività aggiuntive straordinarie e personaliata. Un contratto quindi per la scuola fuori dal pubblico impiego, per tutta la scuola personaliata compreso perché gli uscidi dei ministeri non hanno competenze di vigilanza mentre i nostri collaboratori scolastici ce li hanno, ce li hanno i collaboratori dei laboratori, ha competenze speciali anche che amministra la scuola perché firma bilanci miliardari che in qualunque altro settore anche privato darebbero luogo a stipendi molto più alti e poi occorre la creazione di un consiglio superiore della docenza dentro il consiglio superiore della pubblica istruzione perché si gestisca la parte disciplinare come si conviene ad una professione e perché siano gli insegnanti a scrivere il loro codice deutologico. Di tutto questo e di molto altro ancora si parla nel libro di Stefano Del Rico pubblicato da Armando Editore, La scuola rapita, il Covid e la DAD, il disastro educativo italiano, sono più di 600 pagine che raccontano la storia della scuola italiana a partire dagli anni 60, quindi 60 anni di storia ripercorsa e documentata soprattutto in questo volume di Stefano Del Rico, segretario nazionale Unicobas, che ringraziamo per questa chiacchierata. Sono io che vi ringrazio per la simpatia che avete sempre e per la voglia di raccontare le cose che gli altri non raccontano. Grazie. 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 Grazie a tutti